Ma quante belle novità! Volantino Lidl dal 12 aprile al 18 aprile 2021. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio leggere di nuovo assieme a voi il volantino della Lidl con le uscite fai da te con i prodotti Parkside e non solo. Dopo il grande successo che ha avuto il mio primo video riguardante volantino con gli utensili del fai da te, raggiunto ben 350 mila visualizzazioni, oggi sfoglieremo di nuovo il volantino, guarderemo di nuovo gli utensili, li commenteremo, molti li possiedo, li ho già recensiti, quindi vi parlerò delle caratteristiche in modo da darvi l'opportunità di capire già in anticipo, sfogliando il volantino, se possono essere utensili che possono andare bene per le vostre esigenze. Vi lascerò anche il link del mio gruppo Facebook dedicato al fai da te nel quale vi invito ad iscrivervi, quindi cliccate giù nel link e andate su Facebook e iscrivetevi numerosi. Quindi bando alle ciance e iniziamo a sfogliare subito. Andando direttamente nelle ultime pagine del volantino, quindi troveremo gli articoli dedicati al fai da te. Come primo articolo troveremo il seghetto elettrico, chiamato anche gattuccio oppure sega sciabola. Quest'anno addirittura costerà 24 euro e 99. Gli altri anni ha avuto sempre dei prezzi che oscillavano attorno a 35 euro, quindi quest'anno ci sono ben 10 euro di risparmio. Questa è la versione a corrente, io già vi ho recensito anche il modello a batteria, ho fatto pure un confronto fra i due articoli. Vi lascerò il link giù nella descrizione e nel primo commento di tutti gli articoli che ho recensito, in modo da poter vedere il comportamento. Questo tipo di utensile va benissimo sia per potare, ma va bene anche in edilizia o addirittura per tagliare, troncare in due, grossi pezzi di legno, metallo eccetera. È un utensile molto potente. Questo a corrente elettrica, rispetto a quella batteria, ha anche l'impugnatura reversibile verso destra o verso sinistra, quindi davvero molto comodo. Troveremo anche delle lame in dotazione per poter tagliare diversi tipi di materiali, quindi il legno, metallo, plastica eccetera, ma anche con diversi tipi di utilizzo in base al tipo di dente, quindi per tagli più o meno puliti. Le lame sono vendute in kit da 3 e costano 3 euro e 99. Obiettivamente la lama della Parkside funziona se non dobbiamo sottoporla ad eccessivo stress. Io ho utilizzato quella della Bosch, devo dire che obiettivamente sono superiori. Molti utensili con i consumabili di qualità risultano davvero molto molto più fruibili rispetto ai consumabili un po' più economici, ma per quanto riguarda l'utensile funziona davvero benissimo e devo dire che in certe circostanze diventa quasi insostituibile. Il tasto di accensione ci permette di regolare anche la velocità e sulla parte frontale abbiamo un led che ci agevola durante l'utilizzo in zone poco illuminate. Sulla parte bassa invece c'è un miscelatore per colore o per malta e questo è un utensile che io in realtà non ho mai utilizzato, però posso garantirvi che è un utensile che ho visto utilizzare anche in diversi cantieri, anzi vi lascerò una foto, perché mi è capitato di vederlo in un cantiere e l'olfo di immortalato la scena per poterla condividere ironicamente scherzosamente in un gruppo di facebook e poi ho parlato con chi lo utilizzava che mi ha garantito che si trova benissimo quindi penso che sia un utensile che per chi ha necessità di miscelare frequentemente colori quindi pittori o comunque operai che hanno bisogno di miscelare la malta potrebbe tornare molto utile a un'impugnatura laterale che ci permette di avere un'impugnatura salda ed una potenza di 1600 watt quindi dovrebbe essere abbastanza potente. sulla stessa pagina in basso a destra invece troviamo gli utensili da lavoro quindi pinze tanaglie eccetera ad un euro e 99 io possiedo sia la versione in blu uscita solo una volta che la versione con l'impugnatura rossa e nera e devo dirvi che funzionano abbastanza bene gli utensili non hanno sbavature sono fatti bene funzionano in modo fluido certo un euro e 99 ci fanno capire che non sono sicuramente destinati ad un utilizzo molto intenso anche se io comunque li ho maltrattati parecchio e finora non mi hanno mai deluso hanno sempre funzionato bene ma costano un euro e 99 ciascuno penso da tenere nella cassetta degli attrezzi sicuramente sono un valido aiuto ma parliamo di cose più serie questo è il trapano colonna della shepak il costo sarà di 99 euro quasi il doppio rispetto al prezzo a cui siamo abituati solitamente per il trapano a colonna della parkside molti prodotti della lidl già comunque sono shepak sono rimarchiati parkside però tantissimi sono già la shepak se guardate sull'etichetta trovate proprio la dicitura però questo è un trapano a colonna che probabilmente come qualità costruttiva generale sarà superiore a quella della parkside magari non avrà il problema del mandrino e del canotto che andrà corretto eccetera però avrà solo 5 velocità rispetto alle 9 del trapano a colonna parkside ma io devo essere sincero non ho mai utilizzato tutte quelle velocità il numero di giri è regolabile va da 600 fino a 2600 quindi anche se sono 5 le velocità sarà comunque possibile ottenere un numero di giri abbastanza adeguato in base al materiale che dovremmo forare e la potenza comunque dichiarata è abbastanza elevata ben di 500 watt le punte che possiamo utilizzare vanno da 3 mm fino a 16 mm e abbiamo una profondità per la foratura di 5 cm quello che non mi piace tantissimo è la mancanza del fungo di emergenza sulla parte frontale per poterlo spegnere in modo rapido però guardando bene mi sono accorto che comunque il tasto di accensione è un pochettino più rientrato rispetto a quello per lo spegnimento quindi dando un colpo sulla parte frontale sicuramente lo spegneremo perché il tasto che premeremo sarà quello rosso quindi si spegnerà immediatamente per il resto sembra abbastanza ricco perché anche il laser e la possibilità di regolare l'altezza del pianetto di lavoro una morsa per poter tenere i pezzi fermi sembra che sia un utensile valido io ho già la sega a nastro della shepak qualche altro utensile e sono soddisfattissimo quindi conoscendo questo marchio posso dirvi sicuramente che sarà un prodotto di buona qualità questo invece è un nastro adesivo telato per riparazioni che dovrebbe servire per riuscire a riparare dei fori eventualmente su alcuni tubi in foto vediamo una grondaia con il nastro adesivo quindi riparazioni su perdite in alcuni tubi quindi la possibilità di tappare alcune lesioni fori eccetera io ho utilizzato utilizzato un paio di volte e devo dire non sempre sono riuscito a ottenere comunque il risultato sperato perché comunque l'acqua continua a fuoriuscire probabilmente sbagliavo io però un paio di volte sono riuscito è altrettante invece no in alta destra invece abbiamo questa novità in italia non era mai uscita si tratta della smerigliatrice eccentrica ricaricabile praticamente una levigatrice orbitale funzionerà a batterie fa parte della linea x20 b team quindi la batteria è perfettamente compatibile dello spazio che intravedo tra il filtro per l'aspirazione dei trucioli e la batteria sicuramente potremmo utilizzare anche la batteria da 4 ampere vedo che ha una regolazione di giri quindi ci permette di andare da un minimo di 3000 giri al minuto fino a 12 mila giri ovviamente a vuoto in dotazione vengono date anche dei fogli di carta abrasiva sarà possibile collegare anche all'aspirapolvere dove è collegato questo filtro perché tutti gli utensili della parkside con questo tipo di filtro permettono di alloggiare anche il tubo dell'aspirapolvere è una novità vedremo come si comporterà però un utensile di questo tipo a batteria per me è davvero comodissimo io ne possiedo tre modelli differenti non parkside li utilizzo con soddisfazione e devo ammettere che comunque l'autonomia data da una batteria da 18 20 volte è abbastanza lunga per non ho avuto mai problemi di mancanza di autonomia tra l'altro essendo una linea x 20 b team e se abbiamo altre batterie sicuramente intercambiandole avremmo un lavoro lunghissimo ed il suo costo sarà 39 euro e 99 incluso batteria da due ampere andando avanti troviamo un carrello per trasporto universale al costo però di 24 euro e 99 secondo me è un prezzo un po eccessivo anche se può trasportare 250 kg ritengo che un carrello del genere con una decina di euro si potrebbe anche realizzare però se vi piace già pronto potete acquistare questo della lidl e avere prodotto già finito io possiedo la versione senza l'impugnatura ho realizzato un sistema per poterlo trasportare simulando questo tipo di impugnatura e ho risolto il problema spendendo molto di meno comunque per quello che ci ho fatto posso garantirvi che un carrello valido ci ho trasportato pure una cassaforte abbastanza pesante sulla destra invece abbiamo questo faro led ricaricabile un faro da lavoro che io possiedo che vedete da questa parte che non emette tantissima luce ad essere sincero a un led da 10 watt un flusso luminoso da 600 lumen non tantissimo funziona con batteria 3 piccola 6 volte da 2200 a millian per ora ed è perfettamente adattabile alle nostre esigenze perché inclinabile e regolabile quindi ci permette di posizionarlo con le diverse angolazioni e uno dei suoi vantaggi è quello di poterlo utilizzare anche collegato all'alimentazione elettrica quindi nel caso in cui dovesse finire la batteria possiamo comunque continuare ad alimentarlo e avere la luminosità dove ci serve con la corrente elettrica collegata alla batteria non ricordo il tempo esatto di utilizzo però dopo circa un'ora un'ora e mezza ricordo che si è scaricato quindi per lavori che non siano molto prolungati comunque è sicuramente un valido aiuto soprattutto in cantiere anche se è sotto carica nel frattempo continuerà a caricarsi quindi staccando quel cavetto avremo la batteria carica al suo interno e costerà 11 euro e 99 più in basso invece troviamo la sega giapponese con dentatura doppia non so se quest'anno avranno portato delle modifiche io già vi ho recensito questa sega giapponese e mi sono lamentato del fatto che rispetto a tutte le seghe giapponesi che si rispettino la dentatura per il taglio lungo vena e traverso vena dovrebbe avere delle caratteristiche particolari infatti i denti più grandi dovrebbero essere rivolti verso dietro poi invece hanno una forma triangolare e questo diciamo che influisce tantissimo sull'utilizzo corretto di questo tipo di sega giapponese per quanto riguarda i denti più piccoli comunque lavorano benissimo io la utilizzo come vedete dall'usura praticamente utilizzo solamente questa parte ma una sega giapponese in realtà dovrebbe avere una dentatura come questa quindi rivolta verso dietro lo sia per i denti più grandi che per i denti più piccoli però costerà solamente 6 euro e 99 e personalmente vi consiglio di acquistarla perché anche se potete utilizzare in modo corretto solamente una delle due parti comunque torna davvero utile vi permette di ottenere dei tagli molto soddisfacenti molto precisi puliti e rapidi e anche di queste vi lascerò il link giù nella descrizione nel primo commento per poter vedere la recensione da quest'altra parte invece abbiamo il saldatore ricaricabile per stagno si tratta di un utensile che ho utilizzato più di una volta soprattutto per fare manutenzione sulla vespa e sulla mia macchina e sono riuscito a saldare perfettamente ciò che dovevo saldare senza dover dipendere dalla corrente elettrica si carica con una base che va collegata ad una presa usb da questa parte oppure possiamo caricare direttamente il saldatore inserendo la presa usb sulla parte frontale essendo un modello nuovo probabilmente questa volta avranno messo il caricabatterie con la presa usb di tipo c questo è un modello vecchio però dalla fotografia mi sembra di intravedere proprio la presa usb di tipo c raggiunge una temperatura di 470 gradi in realtà non è molto veloce però quando li raggiunge ci permette veramente di saldare con comodità e lo consiglio più che altro per utilizzi sporadici sicuramente non sarà quello che utilizzeremo più frequentemente per fare dei lavori di saldatura consiglio di avere una stazione saldante che ci permette di essere molto più rapidi questo ogni volta si deve attendere che si riscaldi però comunque funziona bene e quando l'ho utilizzato mi ha salvato davvero la situazione che sarebbero state altrimenti quasi impossibile altrimenti avrei dovuto utilizzare decine di metri di prolunga questi invece sono dei set portaminuterie da parete sono 75 pezzi non ho mai acquistato questo articolo perché non mi necessita o diversi tipi di portaminuterie quindi questo non l'ho mai utilizzato differisce in base al colore anche la dimensione dei vani portaminuterie ci consente di appendere alcuni utensili potrebbe essere una cosa interessante visto il prezzo di 22 euro però non posso parlarvene perché non lo conosco più in basso invece abbiamo il set della pistola spara punti questa ve l'ho già recensita e come vi ho mostrato sulla recensione oltre a sparare punti quindi a permetterci di fissare i chiodi chiodini eccetera ci permette anche di fissare i cavi perché ha un sistema particolare con delle graffe particolari che bloccano i cavi su diversi tipi di superficie vi lascerò il link per vedere di cosa si tratta costa 7 euro e 99 e sotto al video troverete anche il link per poter comprare i chiodini e graffe apposite poi ci sono delle minuterie sono dei cofanetti molto comodi costo di 2 euro e 49 questa volta verranno venduti delle guaine termorestringenti dei rivetti alcuni o ring delle viti con chi è lo si è chiuso che aperto delle fascette a vita eccetera costano 2 euro e 49 e la dotazione è davvero elevata rispetto ai prezzi che troviamo solitamente soprattutto per i rivetti e le guaine termorestringenti è davvero molto basso questo tipo di minuteria all'interno del laboratorio torna davvero utilissimo soprattutto per quanto riguarda le guaine termorestringenti che associate poi al saldatore a stagno ci permettono di ottenere delle giunzioni di cavi che siano fatte praticamente a regola d'arte soprattutto se utilizziamo faston con crimpatrice eccetera ma anche il resto nelle minuterie che vengono vendute solitamente nel laboratorio sono davvero molto utili poi ci sono anche dei fisher questa volta più marca fisher sono come sappiamo notoriamente di buona qualità alcuni feltrini e sono sulla pagina i pantaloni da lavoro che non sono mai riuscito a utilizzare perché hanno una vestibilità secondo me che non è proprio comodissima almeno per la mia corporatura non riesco come vestibilità a trovarmi ci comodo però vedo che ogni volta finiscono al volo quindi probabilmente il difetto è mio torno nei calzini della taterpillar questa volta però più corti che non ho mai utilizzato e le scarpe da lavoro personalmente queste scarpe da lavoro le possiedo possiedono la versione in nero e sono davvero scomode le utilizzo quando è necessario comunque per proteggermi per una questione di sicurezza ho provato anche con delle sue lette un pochettino più comode però obiettivamente non mi ci trovo bene quindi le utilizzo nel momento del bisogno poi le tolgo e continuo a indossare le mie calzature solitamente delle scarpe antinfortunistiche dovrebbero essere comode soprattutto se siete operai che le utilizzano durante tutto il giorno magari investite in qualcosa di più confortevole che possa darvi una comodità maggiore però per utilizzo obbistico soprattutto se capita occasionalmente di fare dei lavori per i quali è necessario proteggersi allora potete acquistarle perché costano poco però ritengo che sul mercato ci sia di meglio e che comunque per un utilizzo appunto prolungato non siano proprio il massimo e sono finite gli articoli riguardanti il fai da te e allora ragazzi io ho finito anche con la lettura assieme a voi di questo volantino della lidl con i prodotti parkside di shepak eccetera che contiene tante novità e tanti articoli che già abbiamo visto anche nelle uscite precedenti spero che anche questa volta il video vi sia piaciuto vi sia stato utile per poter vedere i prodotti in uscita e ovviamente avere anche delle opinioni di chi già le ha utilizzate con alcuni consigli alcuni commenti se avete delle domande da fare commentate giù l'altra volta ho ricevuto tantissimi commenti non sono riuscito a rispondere a tutti però giù nei commenti vi rispondete a vicenda quindi se non riesco a rispondere a tutti sicuramente vi aiuterete fra di voi e questa è una cosa bella che mi piace della community sul mio canale perché sto trovando davvero tantissima gente educata e disponibile e ci si aiuta a vicenda anche a me tanti consigli fanno davvero molto comodo quindi detto questo vi ringrazio di aver visto questo video in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale iscrivetevi anche sul gruppo facebook dedicato al fai da te e ci vediamo ai miei prossimi video per quanto riguarda la lettura dei volantini recensione di utenti eccetera a proposito questa è una stampante 3d e in questi giorni vi farò una recensione detto questo vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto